In questo numero, firmato il decreto sull'obbligo delle vaccinazioni a scuola. Gimbe, SSN in prognosi riservata a rischio entro il 2025. Inni Spallanzani, 80 anni tra accoglienza e gestione delle emergenze. E ancora, sclerosi multipla tra emergenza sanitaria e speranze di cura. Esperti, nuove prospettive terapeutiche per l'ipoparatiroidismo. Il cardiologo, evitabili 27.000 infarti con colesterolo ben controllato. Il vero o falso di questa settimana parla di cancro del seno. E per concludere, le news scelte per voi dalla redazione. Firmato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è il decreto che introduce l'obbligatorietà delle vaccinazioni per andare a scuola, passate da 4 a 12. Invita alla calma il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. Basterà infatti autocertificare l'avvenuta vaccinazione per poter iscrivere i bambini a scuola. In questo modo si avrà il tempo per presentare la copia del libretto vaccinale entro il 10 luglio di ogni anno all'Istituto Scolastico. Lo stesso Ministro precisa anche che la semplice presentazione all'ASL della richiesta di vaccinazione consente l'iscrizione a scuola, in attesa che l'azienda sanitaria provveda ad eseguire la vaccinazione o a iniziare il ciclo in caso di più dosi entro la fine dell'anno scolastico. Restano le multe salate per i Novavax. Sanità pubblica a rischio entro il 2025. Sotto accusa soprattutto sprechi e cattiva amministrazione. Lo denuncia la Fondazione Gimbe che ha elaborato un dettagliato piano di salvataggio presentato alle istituzioni nel secondo rapporto sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Oggi stiamo di fronte a un definanziamento pubblico senza precedenti visto che di fatto il finanziamento della sanità pubblica ha perso oltre 35 miliardi negli ultimi anni facendoci retrocedere continuamente nelle classifiche dell'Ocse rispetto all'Ocse, paese dell'Ocse rispetto all'Europa. Peraltro ulteriori criticità al definanziamento sono date dal decreto Sinovilea che inevitabilmente ha aumentato il numero di prestazioni che i cittadini sulla carta dovrebbero esigere ma con minore tutele dal punto di vista del finanziamento pubblico. Dal fatto che la sanità integrativa non è stata sufficientemente sviluppata per coprire quello che è la ridotta tutela pubblica e infine per quegli sprechi che noi abbiamo rivalutato intorno a 22 miliardi l'anno che si annidano a tutti i livelli e che quindi erodono una quota importante di risorse. Noi abbiamo fatto una stima al 2025 di circa 210 miliardi di euro di fabbisogno ovviamente un fabbisogno estremamente conservativo che però richiede o un rilancio del finanziamento pubblico consistente di cui dai documenti di economia e finanza non si vede all'orizzonte oppure una ridisegnare i livelli essenziali di assistenza in funzione di quello che è il loro valore cioè rispetto al denaro investito qual è il ritorno di salute per le popolazioni e ovviamente bisogna avviare un piano nazionale di disinvestimento agli sprechi coordinato dal Ministero della Salute e rinforzare con modalità adeguate attraverso un riordino della sanità integrativa tutto questo sistema che è attualmente ipotrofico ma anche frammentato e disordinato dal punto di vista legislativo. 80 anni di istituto nazionale per le malattie infettive 21 di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico l'ospedale Lazzaro Spalanzani di Roma celebra la sua storia tra attività al servizio della collettività e strategie future con l'obiettivo di consolidarsi sempre di più come punto di riferimento nel sistema sanitario laziale. Noi siamo sempre in prima linea per la lotta alle emergenze sanitarie e sociali delle grandi malattie infettive che come sapete cambiano nel corso degli anni siamo protesi naturalmente ancora a occuparci di ebola specialmente nei paesi in cui ebola è ancora presente in particolare in Sierra Leone ma siamo pronti alle grandi emergenze che possono capitare siamo anche tesi a migliorare le prospettive anche di umanizzazione di questo ospedale noi abbiamo un grande progetto di abbattimento di barriere architettoniche sia per il personale, per le persone portatrici di handicap e sia in particolare per i non vedenti e vorremmo creare dei percorsi agevolati e una migliore diciamo umanizzazione migliore accoglienza dei luoghi di cura per queste persone continuiamo il nostro impegno su tutti gli altri fronti su cui siamo già nell'eccellenza cioè l'AIDS, il centro di riferimento per l'AIDS naturalmente e per tutte le altre patologie che man mano si vengono presentando le patologie infettive ricerca, assistenza, emergenza sanitaria e sociale nella settimana nazionale della sclerosi multipla celebrata dal 27 maggio al 4 giugno i tre giorni del congresso scientifico dell'AIDS e della sua fondazione hanno disegnato il complesso quadro della malattia nel nostro paese e le tante sfaccettature di cui tenere conto per combattere realmente la malattia e soprattutto per dare risposte ai pazienti Sono delle richieste specifiche quest'anno che facciamo alle istituzioni innanzitutto che in tutta la legislazione, in tutte le scelte di politica sanitaria e sociale sia presente la sclerosi multipla tutte le regioni devono avere i percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali che vuol dire il diritto a ricevere i servizi è pertanto importante che ci sia un osservatorio nazionale sulla sclerosi multipla che siano monitorate le risposte che si danno alla sclerosi multipla e questo lo si può fare anche attraverso il registro italiano sclerosi multipla che noi abbiamo fondato, che mettiamo a disposizione delle istituzioni e che deve essere riconosciuto nella rete dei registri di malattia che ci sono in Italia Sul fronte della ricerca un importante passo avanti è stato annunciato all'incontro romano la speranza di arrivare a riparare i danni a sistema nervoso Per la prima volta al mondo infatti un paziente con la malattia allo stadio avanzato ha ricevuto una terapia a base di staminali neurali fetali cellule più specifiche che hanno più chance di agire direttamente sul cervello Questo è uno studio di fase 1, vuol dire uno studio di sicurezza Storerà due anni, coinvolgerà 12 pazienti, utilizzeremo una dose crescente di cellule e alla fine di questi due anni potremo sapere se queste cellule sono sicure e quindi sperare, nel caso lo fossero, di poter proseguire e di dimostrare che siano anche efficaci Fondamentale infine è l'attenzione alla qualità della vita dei pazienti un punto su cui si è concentrata la campagna internazionale per la giornata mondiale della malattia celebrata il 31 maggio All'interno della settimana nazionale c'è la giornata mondiale della sclerosi multipla quest'anno con un messaggio importante L'hashtag è Life with MS Vivere con la sclerosi multipla Perché oggi vivere con la sclerosi multipla è complesso Grazie alla ricerca scientifica vivere con la sclerosi multipla è anche un po' più facile per chi si avvicina adesso a questa condizione di vita e questo è un messaggio che io mi sento di lanciare soprattutto ai giovani soprattutto alle persone che oggi hanno una diagnosi di sclerosi multipla Una malattia rara per troppo tempo rimasta nell'ombra si tratta dell'ipoparatiroidismo una patologia causata dall'assenza o dalla carenza di paratormone un particolare ormone prodotto dalle ghiandole paratiroidi deputato alla regolazione dell'attività delle cellule che assorbono il calcio Per dare visibilità a questa patologia Lappi e Firmo Ollus hanno organizzato alla Biblioteca del Senato di Roma un evento con il supporto incondizionato di Scheir in occasione della prima giornata mondiale dell'ipoparatiroidismo Al centro dell'incontro le nuove prospettive per la cura della malattia giunte a una svolta fondamentale La novità più straordinaria per i pazienti è sicuramente l'arrivo di una terapia che è l'ormone che sostituisce la mancata funzione o la difettosa funzione dell'ormone paratiroideo quindi tanto da produrre un'ipocalcemia in questi pazienti che è molto sintomatica L'ipoparatiroidismo in alcuni casi non dà una risposta efficiente all'uso di calcio e vitamina D attiva e quindi dobbiamo utilizzare l'ormone paratormone che poi è un peptide di 84 aminoacidi che si somministra per via sottocutanea una volta al giorno E per convogliare le energie intorno al problema costituito da questa patologia rara poco conosciuta ma altamente invalidante nel 2014 è nata l'associazione per i pazienti con ipoparatiroidismo L'intento dell'associazione è quello di far aumentare la conoscenza della malattia è una rete prima di tutto di amicizia perché comunque, soprattutto nella parte Facebook ognuno racconta la sua storia di vita come l'affronta, come riesce a viverci come ci combatte soprattutto le problematiche sono il dolore anzi, è il dolore il dolore è atroce perché vivi nel dolore pensi al dolore e stai nel dolore questo e non solo nel dolore il dolore è inteso per comprendere come un crampo che invece di durare quei pochi secondi durano ore e non c'è un metodo per levarli non è che stirando la gamba o l'ambraccio riescano a passare, non passano il colesterolo cattivo si conferma grande nemico di cuore e cervello mantenendolo sotto i livelli di guardia si risparmierebbero molti eventi cardiovascolari gravi e tante vite come hanno ricordato i cardiologi italiani riuniti a Roma per approfondire il tema nel corso dell'incontro il colesterolo un fattore di rischio modificabile le tecnologie al servizio del cuore un appuntamento in cui sono stati ricordati i risultati dello studio Fourier realizzato su 27.564 pazienti secondo il quale riducendo al massimo i livelli di colesterolo LDL oltre quanto già raggiungibile con la migliore terapia attualmente disponibile è possibile tagliare del 27% il rischio di infarto e del 21% il rischio di ictus si riuscirebbe a ridurre di circa 27.000 il numero degli infarti che ogni anno si verificano in Italia e in Italia gli infarti sono circa 100.000 l'anno gli infarti tradizionali se noi riuscissimo ad abbassare i livelli di colesterolo a quelli che sono oggi considerati i limiti target i medici hanno a disposizione oggi armi molto più potenti per la prevenzione nuovi farmaci che hanno migliorato notevolmente la capacità di controllare il colesterolo anche nei casi più difficili fino a qualche anno fa il modo con cui noi medici eravamo in grado di ridurre la colestremia si basava sull'utilizzo di piccole molecole oggi con l'avvento della tecnologia degli anticorpi monoclonali abbiamo la possibilità attraverso degli anticorpi che colpiscono in modo molto specifico e preciso alcune molecole di interesse di agire con il grande vantaggio di essere estremamente selettivi nell'intervento è il caso degli anticorpi monoclonali Evolocubab e Alirocumab che hanno come bersaglio terapeutico la proteina PCSK9 e questo ci consente di raggiungere i livelli di colestremia che le molecole piccole che utilizzavamo in passato difficilmente erano in grado di consentirci di raggiungere Le nuove possibilità offerte da queste nuove molecole permettono quindi un livello di riduzione del rischio e di prevenzione amplificato elementi che devono essere valutati anche quando si parla di costi e sostenibilità Anche per l'innovazione per le patologie cardiovascolari anche per le patologie per i nuovi farmaci del colesterolo devono necessariamente passare da una valutazione di HTA affinché si abbia un trattamento efficace, sicuro e certamente sostenibile per le casse regionali È vero che il tumore del seno è prevenibile? Sì, è vero si può anticipare la diagnosi È vero che il tumore del seno viene solo dopo i 40 anni? No può avvenire anche a ragazze giovani di 26-28 anni Il tumore del seno si può diagnosticare solo se è più di un centimetro? No, assolutamente falso abbiamo possibilità di accorgerci anche di tumori di pochi millimetri Solo il medico può sospettare la presenza di un tumore del seno? No perché una donna può accorgersi di sintomi che fanno pensare a un tumore al seno sarà poi compito del medico accertare o meno la presenza di patologia Un tumore del seno può essere scoperto solo con la mammografia? No la mammografia è la prima indagine da effettuare tra i 40 anni e i sopra i 40 anni al di sotto di queste tassi il primo esame da effettuare è un'ecografia mammaria ma esistono approfondimenti diagnostici possono essere la risonanza magnetica possono essere le varie biopsie esiste tutto un corteo di indagini che vengono fatte al fine di accertare la diagnosi di carcinoma la mammella la prima è la mammografia a partire dai 40 anni Il tumore del seno si cura solo con la camioterapia? no assolutamente no in alcuni casi si fa solo l'intervento chirurgico accompagnato da radioterapia in altri casi si può instaurare un'ormonoterapia solo in alcuni casi è necessaria la camioterapia Un'idea semplice economica ma geniale dalla ricerca italo-britannica arriva un orologio da polso in grado di rivelare con un test di appena 10 secondi con un'accuratezza vicina al 92% se una persona è affetta da malattia di Parkinson Il dispositivo innovativo sviluppato dai ricercatori dell'Università Campus Biomedico di Roma in collaborazione con i colleghi dell'Università di Oxford è già una realtà e ha un costo bassissimo quello di un accelerometro che costa dai 3 ai 15 euro il brevetto del sistema è già stato depositato Un brutto divorzio lascia il segno nei bambini anche a livello fisico e il conto si paga anche 30 anni dopo chi ha vissuto una separazione difficile dei genitori rischia di ammalarsi da grande tre volte più delle persone che papà e mamma anche se non sono rimasti insieme hanno mantenuto un rapporto civile secondo uno studio pubblicato su PNAS le esperienze di stress all'inizio della vita hanno un impatto sulla nostra fisiologia e sui processi infiammatori che aumentano i rischi di avere problemi di salute e di sviluppare malattie croniche spiegano gli autori dello studio altro che gioielli i medicinali sono sempre più innovativi costosi e interessanti da piazzare sul mercato internazionale così sulla base dei primi dati 2017 si è registrato un ritorno del fenomeno del furto di farmaci esploso nel 2013-2014 e ridimensionato poi drasticamente grazie a interventi mirati di contrasto nel 2015-2016 più gettonati i nuovi antiepatite C e gli anticancro una situazione spiega Domenico Di Giorgio direttore dell'ufficio qualità prodotti e contrasto al crimine farmaceutico dell'AIFA commentando l'ultimo report sul fenomeno dovuta a un'evoluzione delle organizzazioni criminali che oggi puntano al mercato nero ai canali extra UE ogni giorno nel mondo oltre 16.000 bambini muoiono prima di aver compiuto i 5 anni nella maggior parte dei casi per malattie facilmente curabili e prevenibili tra cui polmonite 15% diarrea 9% e malaria 5% mentre la prima causa di morte 18% sono i parti prematuri sono i numeri impietosi del primo indice globale sull'infanzia negata nel mondo contenuto nel rapporto infanzia rubata di Save the Children è in grado di spingere lo sguardo dello scienziato fin dentro l'ultima singola molecola fino ai dettagli prossimi alla risoluzione atomica pari a 3-4 angstrom è finalmente arrivato all'università degli studi di Milano il super microscopio da più di 3 milioni di euro il microscopio elettronico a trasmissione per applicazioni a criotemperature per lo studio di particelle di origine biologica è stato installato in via Celoria in una specie di bunker nel seminterrato della torre N per il suo acquisto era stata indetta una gara d'appalto europea questa era la nostra ultima notizia per contattarci potete scrivere a salutechioccioladncronos.com grazie per averci seguito e alla prossima puntata grazie a tutti